Seconda cosa, per 68 concerti in quest'anno, anzi di più, 78, in tutti i paesi, questa è la prima volta in Italia, durante il prossimo pezzo è successo il delirio e ognuno, in ogni paese, ha saltato. Questa è la parte che io preferisco nel concerto, perché quando dico saltare io vedo facce, tipo la tua, in questo momento, sono tipo terrorizzate, sono le prime file che sono di solito, e dopo c'è qualcuno davanti e tanti dietro che sono tipo... Ma avete due scelte, scelta numero uno, saltiamo tutti assieme, facciamo una festa indimenticabile e domani quando a casa ripensate a questo concerto avrete una memoria bellissima. Scelta numero due, come dei coglioni state fermi e semplicemente vedete tutti gli altri che si divertono. La scelta e mostra, il prossimo pezzo si chiama Melancoli. Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti